Per secoli l'aggregato di abitazioni di Baldissero fu una semplice borgata della città di Chieri e ne condivise le vicende storiche sino all'anno 1694, quando, raggiunta una sua indipendenza, si rese autonomo erigendosi in comune. Nel Medioevo vi è testimonianza di diverse famiglie nobili che lo ebbero in appannaggio, estinte definitivamente ancora nel secolo XIV. Vi erano in quei secoli un castello ed un ricetto poi scomparsi. Nell'anno della sua indipendenza il nuovo comune fu dato in appannaggio ai Benso di Mondonio, che ben presto lo cedette al signore di Sant'Ena Giovanni Battista Fontanella. Situato in una posizione geografica resa articolata e complessa, da grandi avvallamenti ed alte creste collinari che sfiorano anche i 700 metri, il suo profilo è segnato dalla cupola ottagonale della chiesa parrocchiale di Santa Maria della Spina, edificata con pianta a croce greca negli anni 1717 e 1725 da un architetto anonimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.